birra per tutti offre la casa non è vero sgancia la grana buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di star di uvalley sono il cross e quest'oggi ci troviamo con un preservativo in testa per qualche ragione e si è il nostro nuovo cappellino ma lo sapete già dalla puntata precedente quindi iniziamo subito le nostre attività quotidiane con living of the land il salmone bla 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 il salmone torna al punto di dove è nato per deporre le uova guarda la nostra macchinetta per i vernici sta facendo i bait bene mi fa piacere ci metterò due anni a fare i bait così però pazienza intanto proviamo a vedere cosa fa bene abbiamo finito di dare da bere alle piante quindi adesso andiamo da la la vendiamo questa robaccia siamo appostissimo ci serve un topper cosa possiamo fare per il tapper tapper io ho detto da però che avete mai sentito male voi da allora tapper in arrivo al binario 3 qua hanno prodotto un bel po di cose abbiamo leg plant pronto quindi tiriamo via le melanzane abbiamo per qualche ragione che sono due di qua due di là non si capisce le piantate tutte insieme che sono due di qua due di là e poi abbiamo l'amaran 1765 abbiamo l'amaran l'amaran serve a marni per la nostra missione che adesso vado da lei io tiro dietro come il mio solito questo questo uova large abbiamo le uova large le nostre gallinelle ci vogliono bene quindi hanno iniziato a farci le uova large bene e visto si ottiene si ottiene qui sto dando amore alle gallinelle ci fai le coccole e loro ti danno le uova più grandi quindi cosa tengo 25 10 mentre questo 38 15 bravo gillabelle gillabelle avete da mangiare voi no ovviamente no 1 e 2 3 e 4 tani mi fa le uova che sono una meraviglia allora mi serve il large egg nel animal bundle sia uno sia di un tipo che dell'altro quindi me le tengo entrambe le uova grandi e l'uovo piccolo facciamoci la maionese no non posso facciare la maionese perché c'è la giusta sto già facendo la maionese quindi me ne avvio verso la città siamo arrivati dal nostro amico clint e ci spacchiamo un paio di geodi perché giustamente possiamo 25 cos'è sta roba opal un opal però l'opal era arancione di solito ok clay e barite sembra un orzacchiotto la barite e tre pietre ok posso comprare qualcosa no non posso non mi interessa comprare niente quindi andiamo da gunter amico donna donna museo donna museo posso dare la barite e l'opal e tu non mi dai niente in cambio ma sei proprio un tirchio porca vacca allora qua il plan tiene di nuovo qualcosa mi servono 16 di qualcosa che siano abbastanza buone ho preso erba giustamente perché prima l'ho tagliata tutta adesso devo comprarla poi prenderò qualcos'altro che mi possa essere utile corna 125 ma tu sei pazzo pumpkin 100 ci mette 13 giorni 11 più 13 siamo a 26 arriverei giusto giusto a fine mese 8 pumpkin adesso qualcosa che mi rimane 8 di questi ok 65 monete d'oro in tasca siamo fortunati siamo fortunatissimi perché abbiamo altro e ci piazziamo un po' di luci in giro per la città abbiamo illuminato un po' la città andiamo avanti al community center animal bundle quindi ci troviamo nel nostro ripostiglio ripostiglio animal bundle e i primi oggetti dell'animal bundle eccoli qua ci serve ancora capra pecore ci servono un sacco di cose ma preoccupiamoci di una cosa alla volta poi devo andare dai nostri amici come si chiamano i cosi di avventurieri avventurieri esatto amici avventurieri prima o poi dovrei aver finito non dimmi che apre le due non dimmi che apre le due apre le due porca vacca apre le due beh vado a farmi un po' di esche già che sono qua un po' di esche mi vanno benissimo a livello dal 5 in poi dovrebbe andare bene tanto devo ammazzare sti cosi 3 3 4 chucure gu riusciamo da qua dentro andiamo abbiamo finito anche miniera avventura abbiamo raccolto 11 cervello di mostro andiamo a vendere un po' di roba perchè il inventario è stra pieno No mi sembra una nuova spada mi serve che tu compri queste cose qua Lava katana Lava katana 25 mila di danno però Facciamo un salto da no facciamo più un salto da nessuno perchè sono circa mezza quindi lui è già chiuso quindi ce ne torniamo alla nostra bella casetta in mezzo alle montagne Mezzo alle montagne noi torniamo ma passiamo da marni prima già che ci siamo Noi andiamo a casa la 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 Qua Ma va Ma Marni chiudere 6 sono 6 10 quindi vi tengo la roba fino a domani benissimo porca vacca Vediamo se almeno sti pumpkin riesco a metterli giù anche qui i campi hanno chiuso Che abbiamo messo in giù ci sono riuscito come per miracolo Le altre melanzane Perchè no Prima o poi tutto fiorirà prima o poi Uhhh della pale ale Eccola qua la pale ale che tanto desidera La lubriacona di Pam E vendiamo un po' di questa roba Noi siamo più che a posto Robin continua a lavorare e non ti fermare fino a quando non hai finito di lavorare Di costruire il mio edificio e noi andiamo a letto Oddio cosa succede C'è la fatina C'è la fatina Arriva la fatina di notte Oddio dove vai? Cosa fai? Mi distrugge tutto? Mangia tutto? Cosa è una carrozza adesso? Ah c'è una zucchina fatata 4863 non male Non male per niente Considerando che sono partito da 65 monete Va bene 5400 12 Venerdì 12 Gli spiriti sono neutri quest'oggi Ce la teniamo una pale ale Ce la beviamo di gusto E guardate ragazzi cosa sono riuscito a fare Mi sono fatto la stalla Stalla Parapa Dai un nome al tuo cavallo Io ho i nomi No no per favore No Kernar Ma che nome è? Oh e come si fa? Chi è che? Ma io non voglio che si chiami Rasa il cavallo Porca vacca ho sbagliato nel nominare il cavallo Si chiama Rasa Rasa Vabbè Comunque ecco il mio bellissimo mezzo di trasporto attuale Il cavalluccio Io giro con il cavalluccio Adesso vado in giro e nessuno mi può più rallentare né fermare Il cane è rimasto intrappolato là dietro Facciamo finta di niente Beh Chi se ne frega Ho il cavallo adesso Vendiamo questa roba Monta il cavallo di nuovo Vediamo cosa è successo alla melanzana zucchina O quel che è Oddio Sono cresciute tutte Ma sono state in... Sono giganti tra l'altro Quindi inizio a raccogliere l'orticello È tutto bello L'orticello è tutto bello Fa anche rima Cranberries che crescono ancora a caso Due di qua, tre di là Iiii Ho anche il yam Il yam è pronto Yam yam E quanto ce ne ho di yam No, non voglio mangiare l'eggplant No No 816 24 da rimpiazzare No, non voglio mangiarlo No, non voglio mangiarlo 5 Ne ho fatti 5 Ne ho fatti 5 Ne ho fatti 5 Ne ho fatti 5 Sono stracontento E ne ho da altre 8 16 16 più altri 24 16 24 40 piantini mi servono 40 piantini Iiii Avanti cavallo Uuuu Corri Dio, spazi con il cavallo Spazi con il cavallo Vabbè Ok Va bene Ci fermiamo qua Vai tranquillo cavallo Riprendi fiato Perché dopo questa corsa Sicuramente avrai bisogno di riprendere un po' fiato 10 pumpkin 3 pumpkin E poi guardate qua che meraviglia Guarda Uuuu Sono ricco Sono ricco Sono ricco 18.000 così Così Mamma mia come sono contento Guarda Corro 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 Vai Monta sul cavallo E vai Ho fatto regali? Si ce l'hai regalo Si bene Ce l'hai regalo A posto rar open E poi Andiamo subito 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 alla pantry Abbiamo combinato un'altra bundle così sono veramente contento pumpkin qua bundle complete il nostro regalo qual è è un preserve jar bella e ne abbiamo due non ci abbiamo tre adesso poi mi serve porca vacca ho appena venuto tutti i pumpkin quando mi serviva uno qua nessun problema ne cresceranno degli altri ma sono un pirla sono un pirla sono un pirla con la p maiuscola pirla ci sei eccola qua ogni giorno la stessa vecchia routine tu non hai questi problemi contadino no bella mia bevi bevi dammi qua questa roba buona grazie ragazzo questo significa un sacco per me sapevo di poter contare su di te 350 monete grazie pam se hai bisogno di altro alcol sai dove trovarmi il cavallo non riesce a passare la vicina macchina e spacca la macchina locata nel fiume quindi facciamo un giro largo morning sono qui hello hello anche a te hello amaranth per le tue mucche oh l'amaranth che ti ho chiesto grazie le mie mucche adoreranno questa cosa sgancia la grana e intanto già che sgancia la grana dammi delle mucche dove le voglio voglio una mucca qua e si chiamerà la mucca wasper ti mando il piccolo wasper lì compra anche un'altra mucca ci serve e andrà ancora lì bra albert ma bra albert è un nome da mucca bra albert poi ma si prendiamo due termosifoni prendiamo delle forbici per tagliare i peli e la lana e un una ciotola speciale ovviamente per prendere il latte delle mucche perché senza la ciotola speciale non si può fare niente quanto avevo scoperto ero ricco prima adesso 5.000 monete e devo ancora andare da questa tizia qua ciao bug meat rainbow trout spinner winter seeds winter seeds perché mi dai dei winter seeds che deve ancora arrivare il winter winter table addirittura c'ho anche il tavolo invernale e c'è il rare crow beh sapete vi dico prendo anche il rare crow bene ho il rare crow in testa bene torna la mia farm ho speso tutti i soldi ne ho ancora 1079 ma non saprei cosa farne dei soldi visto che adesso sono ricco ricco sfondato dovrei solo sposarmi adesso funziona molto normale passa il treno passa il treno via 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 passa il treno treno eccolo qua vaffanculo mi ha colpito 17 di danno mi fa e vaffanbrodo dammi qua sto picchiando il treno sto picchiando il treno e dammi anche del carbone brutto pezzente sto morendo a forza di picchiare il treno sto morendo dammi un po di cibo un po di cibo niente ho picchiato il treno abbastanza ho preso una pietra uno due carboni e una geode tre carbone addirittura non ho capito ancora se devo picchiare il treno oppure no io l'ho picchiato giusto per infatti ho perso mezza vita ma fa stesso è passato il treno ho preso una geode due pezzi di carbone tre pezzi di carbone e una pietra grande affare Chiudiamo Si deve accendere anche no bene abbiamo messo il riscaldamento le galline abbiamo fatto una bella cavalcata adesso anche per andare in bagno prendo il cavallo praticamente e quindi andiamo a letto concluso anche questa giornatina abbiamo picchiato il treno abbiamo cavalcato il far west e quindi concludiamo la dodicesima giornata tredicesimo giorno ok non piove buongiorno a tutti buongiorno function teller gli spiriti oggi sono arrabbiati ma ma va non avrei mai detto oddio prendo le lumacche le 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 no le crannol trapod brutto idiota ok e le periwinkle le famosissime periwinkle anzi in questo momento visto che voglio essere ancora più ricco ancora più sfondato voglio o ne ho otto di questi otto di questi e otto di questi e mi faccio altri sprinkler ne ho fatti otto ma vi ne rendete conto otto otto irrigatori o mamma mia 1,2,3,4,5,6,7,8 8 per 8 sono 64 piantine 64 piantine con bella bellezza di 1700 aspetta che faccio uscire galline ma state mangiando tutta l'erba piccoli erbivori antipatici salta a cavallo portami qua bravo quindi vediamo cosa succede quando facciamo una maionese con un large egg tanto per succederà sicuramente un miracolo ma sono ironico se non avete capito a cavallo giù da cavallo ok abbiamo fatto due metri poi sono diventato un esperto di questo lavoro un esperto zappatore chissà se me lo riconoscerà mi darà la laurea come zappatore esperto non lo so ma intanto ho bisogno di tanto sap quindi quindi indovinate cosa mi metterò a fare ho 55 sap che faranno qualcosa come la metà ho 55 sap che faranno qualcosa come la metà 27 27 26 27 dovrei farmi di 27 fertilizzanti devo mettere 60 altro fertilizzante 37 mamma mia adesso si che ci siamo ho fatto anche questo altre 64 eggplant sono soldi ragazzi soldi 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 quello che ci interessa soldi aspetta prima di andare a letto chiuderò queste bellissime questi animali carissimi 1 e 2 cavallo lo mettiamo nella stalla parcheggiato lì abbiamo finito anche oggi sabato 13 sabato 13 quindi andiamo a letto e io vi ringrazio per l'attenzione questa è stata un'altra puntata di star new valley sono cross e ci vediamo alla prossima buon proseguimento